brava vieni a scrivere visto? che cazzo c'è scrivendo? non è solo il mio nome forse per i carri passi con questo volantini è un altro tipo di faccia cosa stai facendo? no ti prego, fate il video no, senta bene, mi fatti incazzare io non vedo te li da più i volantini vatti, non lo faccio il cazzo ma è la prima storia, me la mangiate ciao vieni, sei annoiata come una merda non è vero dove li metto? vuoi insultarla? no papà, prova non devo scrivere? vuoi quello che vuoi, anche cazzo se ti piace si anche la tua giornata basta guardate questa stronza ha insultato i miei volantini perchè? perchè? perchè si? perchè si? perchè stai ballando sul codo c'è nessuno di merda perché a te lo posso vedere? è l'altro momento breve tu anche insulti i miei volantini ebbè certo no è tutta la cacca io no dai, io non scrivo cacca ma insulti i miei volantini no, io non li insulti i miei volantini ci hai prenduto delle sigarette quelle così ci stanno tu li insulti? eh? tu li insulti? no hai usato quel lavoro che c'è dietro? si, infatti si è andato direttore dal scuola dove andiamo a fotocopiare i libri per farci fotocopiare altri volantini si, io ci tengo le miei volantini voi non me ne frega mai un cazzo io non me ne frega più, basta sono fesa, si sai come vuoi? no sono triste che cazzo bevi? dovresti essere imparita perchè io sono imparita no, la domanda è che cazzo bevi ti faccia passare così anche io devo bere, tieni io non è che mi devi riprendere gli occhi infatti io sono ancora 100.000 video ho i capelli corti adesso ho i capelli corti adesso baci, amore, gioia e infinitone un gettone un gettone devo andare più di sotto alla cazzo del bar vedi che insulti i miei volantini perchè li prendi solo a me? non li prendi solo, avevo fatto una panoramica ma nessuno ti viene, tu in me tu fai cose stupide e quindi è divertente shhh, devo zoomare solo ai costri zoom a me ok perchè il tuo te lo do sono centrata, si ci chieda allora ecco la commenta commenta però che era un termosipone sta cosa non è che non lo stiamo a stare hai scritto tappe davvero? si, però ho scritto tappe davvero eh ho scritto tappe davvero cosa c'è? ah ma vabbè ma ho visto un cazzo grazie per questa bellissima giornata che tu lo fai amore pizza, di pizza basta io non sto parlando con te io lego grazie e io lego grazie potremmo nascete qualcuna che si chiama grazie fissa 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 no 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 non è in grado no no niente, non so cosa dire allora diciamo qualcuno intorniamo la tua figlia qualcuno deve dare la voce qual'è il suo nome? figlia una voce e una è 3D anche la voce qual'è la tua storia? o tre o nessuna non lo so non lo so non lo so abbiamo dei piccoli abbiamo dei piccoli guarda ecco la gente conti del volturo ti piace dove viene? dai che cos'è? che cos'è? oggi è il compleanno di giorno crescente è importante molto più di birre ha 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 pace amore gioia infinita da Ilaria si va bene mi scappa un rotto ma non vi farò adesso non è il momento guarda che è come egoiste lei con il pennarello tutto in grande insulta mi piace questo è il suo cellulare adesso lo andro adesso lo andro adesso lo andro si ha anche bucato il foglio no devi farlo col pennarello sennò non viene non viene devo farlo con il pennarello si si ma che fastidio questo rumore di merda infanzi ora si 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 copriti le oregano solo merda merda? ah si guarda che è egoista di merda vai visto si vabbè tu pensi che gli fai un poema sei più egoista di lei ma è ovvio ma è ovvio è più egoista di lei non stiamo parlando mai di te 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 lei ha detto di qualcosa di cattivo beh lei l'ha detto dai adesso credo adesso credo a puzza non è vero no poi adesso non è vero poi però ha detto guarda come è egoista perché l'unica che ha più il pennarello ma adesso è più egoista di te perché ti hai più non ho detto ancora due non ho detto ancora due non ho detto guarda che questo di me questo è rimasta non capito niente comunque oggi sei rimasta questo è rimasta questo è il tuo cellulare non te lo do non te lo do perché ho di miei volantini ho di miei volantini ho di miei volantini ma non so ma come te lo fatti perchè stiamo qua lei non lo direi di miei volantini ma chetti no no se lei non lo direi di miei volantini io a Greta e io a Greta io a te non te li do più Greta io a te lo metto nel culo poi voglio vedere dove andiamo adesso? andiamo sulla montagna andiamo per un giro? si si non puoi avete riempito le vostre pancia? si troppo lei ha riempito la sua pancia si si stiamo pronta sto pronta aspetta il momento della riepacificazione devo far vedere nooo grazie Hare Krishna Hare Krishna nooo non so più niente pizze 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 pizze